Ragazzi siamo appena saliti sul Pullman, sull'autobus, e stiamo andando in aeroporto. Sono qui, con il De Schema. Daniele, alza la mano se vieni anche tu con noi. Non avete sbagliato un solo pezzo. Siete fantastici. Il marchio Italia è un marchio amatissimo nel mondo arabo, in particolare in Tunisia. E per questo la serata di stasera, il Festival di Sanremo, unito a Rai 1, veicolati con la promozione del Ministero degli Asfari Esteri e dell'Istituto di Cultura, la nostra ambasciata, sono riusciti a fare sistema in un modo direi semplice ma anche straordinariamente profitto. Come la musica qui è una delle attività più gradite, e in particolare la musica italiana e la musica dei giovani, abbiamo colto al volo questa opportunità e credo che sia stato un grandissimo successo di pubblico proprio per questo. E' tutto pieno, pensa che è brutto fare sta brutta figura col teatro pieno. Come vi fa entrare ed ecco l'orchestra? No, noi possiamo anche essere già sul palco, aspettare che lei me ne vada. Mari al centro, per chi è possibile qua, contro l'art cance a tutta potenza. Fai! 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 Grazie per la visione!